Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio fare un video un po' diverso da solito, come avrete visto dal titolo oggi voglio parlare dell'E3 2021. Come molti di voi sapranno se siete fan di videogiochi e dell'industria in generale, questa settimana inizia ufficialmente l'E3, quindi la manifestazione videoludica più importante dell'anno in cui le varie software house presentano i loro nuovi giochi e tutto quello che sta per arrivare sul mercato. Voglio approfittarmi ovviamente per fare una piccola parentesi su Inazuma, quindi c'è probabilità che vedremo Inazuma alle 3? Allora ve lo dico chiaro e tondo, no, nel senso che probabilmente è una cosa impossibile per due ragioni. Primo, l'ultimo aggiornamento ufficiale di Inazuma Eleven si è tenuto davvero poco tempo fa, quindi ad aprile, come ricorderete a inizio aprile, a Chiroino e tutto il team di Level 5 con un video di gameplay annunciato il nuovo posticipo di Great Road of Heroes. Ora, è ovvio, Inazuma Eleven è solo uno dei brand di Level 5, quindi Level 5 potrebbe annunciare di avere qualcosa in cantiere, ma perché è altamente improbabile proprio la presenza di Level 5 alle 3, perché l'anno scorso Level 5 ha chiuso tutti i suoi uffici in America e da un comunicato stampa ha anche detto che è molto improbabile che i futuri giochi della Level 5 verranno localizzati al di fuori del Giappone. Quindi questa scelta è stata fatta per focalizzarsi, concentrarsi solo sul loro mercato, quindi sul mercato giapponese, dato che appunto non navigano in acque molto buone negli ultimi tempi e quindi è davvero improbabile una presenza alla fiera appunto a Los Angeles, una fiera mondiale più occidentale che orientale di Level 5, visto che i prossimi giochi molto probabilmente non verranno neanche rilasciati nel nostro mercato, a parte quelli ovviamente già annunciati da diverso tempo, come Great Road of Heroes, si spera ovviamente perché non si sa niente. Quindi purtroppo la presenza di Level 5 in questo E3 è praticamente nulla, probabilmente non lo vedremo, non vedremo nessun gioco di Level 5 neanche al Nintendo Direct dove ci si concentrerà su Pokémon, sui titoli di terze parti, su si spera The Legend of Zelda e tutto il resto. Però noi ci speriamo comunque, chissà che Level 5 non decida appunto su quei pochi titoli che ancora devono uscire in Occidente di fare una scappata durante il Nintendo Direct, chi lo sa. Voglio approfittarne quindi però per dirvi quali sono le mie, diciamo, perle, quello che vorrei vedere io personalmente alle tre. Vi dico tre titoli che spero appunto di vedere alle tre che abbiano appunto annunci. Allora, uno è poco probabile che si presenti, secondo me, ed è Final Fantasy XVI, che è stato annunciato, sì, ormai da diverso tempo appunto, ed era stato detto anche che nel 2021 ci sarebbero state delle nuove, delle novità, delle informazioni. Quindi potrebbe effettivamente presentarsi nella scaletta della conferenza della Square, che però appunto sembra già abbastanza piena, con già un nuovo titolo del team di Montreal che dovrà essere annunciato e con la non presenza di nessun titolo di Final Fantasy, anche perché giustamente esce Final Fantasy VII Remake Intergrade e quindi ovviamente Square non vuole distogliere l'attenzione da questa uscita parlando di un altro Final Fantasy. Quindi è altamente improbabile, anche se io ovviamente ci spero. Secondo gioco di cui spero davvero di avere buone notizie, e questo invece è molto più probabile, è Legend of Zelda Breath of the Wild 2, o comunque si chiamerà. Questo titolo invece è molto molto probabile che venga presentato durante il Nintendo Direct in una forma semidefinitiva, con, si spera, anche una data d'uscita, e io ci spero davvero tanto. Poi io spererei anche di vedere qualcosa da casa PlayStation, anche se ovviamente Sony, come sapete, non parteciperà all'E3 2021, come non ha partecipato comunque nelle ultime edizioni, e quindi non si sa se presenterà qualcosa, in che modo lo farà, e quindi a me piacerebbe vedere qualcosa delle nuove produzioni Sony, dopo che appunto è stato annunciato recentissimamente lo slittamento dell'uscita del nuovo God of War Ragnarok all'anno prossimo, e quindi io spero che, mentre tutti gli altri, Microsoft compresa, lanciano un sacco di bombe durante la prossima settimana, spero che Sony non se ne stia nelle mani in mano con ultima notizia che ha rilasciato ufficialmente, che è un posticipo, e quindi non una cosa propriamente positiva. Ma staremo a vedere. Voi come al solito fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto, anzi, in questo caso voglio sapere quali sono le vostre aspettative per l'E3, se siete abituati a seguirlo in diretta, vi svegliate la notte per guardare le conferenze, se non vi interessa e vi basta leggere gli annunci la mattina seguente, senza troppo, senza appunto focalizzarvi troppo, senza essere partecipi, e ovviamente lasciate un like se vi è piaciuto il video, e iscrivetevi al canale, e ci vediamo molto presto con nuove informazioni sulla pace di Strikers. Grazie a tutti.